Adesso facciamo dei carciofi fritti dorati. Abbiamo tagliato i nostri carciofi in spicchi, li abbiamo infarinati, li passiamo nell'uovo e li friggiamo in olio bollente. Spettacolo vero! Sentite che profumo di fritto! Che spettacolo! Lasciamo friggere piano piano per dieci minuti, girandoli più volte. Ecco qua, spettacolo vero! Ecco qua i nostri carciofi. Andate che frittura! Spettacolo vero!